Apriamo ora la pagina della cultura e dello spettacolo e andiamo a Sassari dove ha riscosto un grande successo di vendite la grande lirica. Il teatro comunale ha registrato il sold out sia per il gala di Capodanno che per Nabucco, immortale opera verdiana tra le più amate di tutti i tempi. Valentina Luiu. Grande successo per l'opera lirica Sassari. In questi giorni si sono registrate lunghe file al botteghino del teatro comunale per ritirare i biglietti omaggio del gran gala Pucciniano di Capodanno, organizzato dall'ente De Carolis e con il finanziamento del comune di Sassari. E nel frattempo cresce l'attesa per Nabucco, terza opera lirica di Giuseppe Verdi in quattro atti la cui prevendita risulta sold out da settimane per tutte e tre le recite programmate. Come da tradizione, per presentare Nabucco al pubblico, lunedì 4 dicembre alle 17 si è tenuto l'incontro alla scoperta dell'opera entro la preziosa cornice del ridotto del teatro comunale. Il direttore artistico dell'ente concerti Alberto Gazzale ha dialogato con i protagonisti del capolavoro verdiano in scena l'otto il 10 e il 12 dicembre. E questo capolavoro, che è un po' una rivoluzione per gli stilemi dell'epoca, ha rappresentato, si è legata poi al discorso anche, diciamo, al discorso politico e più in generale al discorso anche forse esoterico e mistico e quindi è stata accolta, diciamo, dal pubblico sempre in maniera molto partecipata. Avendo diversi livelli di lettura, ciascuno dagli strati più meno acculturati, diciamo, a salire, hanno saputo trovare nel Nabucco sempre tantissimi contenuti che l'hanno resa assolutamente immortale. Il fascino storico dell'opera, immerso in un sublime contesto musicale, consente altresì allo spettatore di fare un ulteriore step di riflessione sui tempi attuali. Il suo essere ancora attuale è perché è un'opera molto corale, un'opera molto vocale, un'opera che trasmette immediatamente le emozioni senza dei filtri, diciamo, che possano essere troppo difficili da percepire anche solo al primo ascolto e poi certi temi sono ormai diventati, diciamo, veramente di… sono entrati nella nostra memoria, nella nostra coscienza e quindi ancora oggi, effettivamente, anche in questo caso, il Nabucco ha avuto un trionfale successo di pubblico. A Seulo torna a Procargius dieci giorni di convegni, lavoratori gastronomici e degustazioni con un fuoco sempre acceso. Vediamo il servizio. Cucinare e degustare le prelibatezze tipiche di Seulo. Girando per gli stand si trova un po' di tutto, dai salumi ai formaggi, passando per il culurgione se le altre specialità, ma fino al 17 dicembre nel centro barbaricino il protagonista sarà il maiale. Un motivo di gioia e speranza per gli allevatori e gli imprenditori della zona dopo gli anni della peste sui. Più o meno la formula è uguale a quella dell'anno scorso. Abbiamo messo a punto soltanto qualche programma, più laboratori, più partecipazione. Per il resto la manifestazione è uguale all'anno scorso. La manifestazione è incentrata sull'allevamento del maiale semibrado, che era una risorsa delle nostre montagne prima della peste suina e adesso sta tornando a esserlo con diverse aziende sui niccole. Però c'è una parte dedicata a tutti gli altri lavori della montagna, soprattutto al settore enogastronomico, ma anche a un po' di artigianato. L'edizione dell'anno scorso, nonostante il tempo che comunque si tiene d'inverno, Procar Giosu è andata abbastanza bene. Quest'anno ci aspettiamo più partecipazione. Se uno riparte dal maiale, perché dal maiale non si butta niente. Convegni e laboratori gastronomici con un fuoco sempre acceso che si sviluppa attraverso dieci giorni di attività alla riscoperta delle antiche tecniche di lavorazione della carne, in particolare quella del maiale, allevato allo stato brado e non solo. E' stata organizzata questa manifestazione da esperti, diciamo, paesani, perché siamo tutti un po' esperti in paese, sul maiale, sulla sfinicoltura, come si dice in italiano, ma noi diciamo Procar Giosu. Sarà un mese ricco di appuntamenti che accompagneranno i cittadini fino alla serata più attesa. Il calendario degli eventi natalizi di Olbia, con iniziative per grandi e piccini e poi il grande concerto di Capodanno al Molo Brin. Scopriamoli insieme e sentiamo Stefania Costa. Ci sarà la parata delle mascotte, la casa di Babbo Natale, concerti e appuntamenti per tutto il mese di dicembre. Olbia aspetta l'arrivo del Natale con un calendario ricco di eventi pensati per i più piccoli, ma anche per gli amanti della musica, con i concerti gospel e quello della banda di casa, la Felicino Mibelli, in programma il 16 dicembre al Museo Archeologico alle 18. Qualche ora prima si terrà uno degli eventi più attesi in città, Babbo Natale Vien dal Mare, l'evento sportivo organizzato dall'associazione Kina Armonia, col patrocino del comune di Olbia, nello specchio acqua e antistanti lungomare. A bordo di Soup, Canoe, Kayak, Elfi, Ren e tanti Babbo Natale traineranno la slitta carica di regali da donare ai più piccoli. L'evento è nato per accogliere i fondi a favore dell'associazione Pollicino Onlus. Tra commedie, giochi, la barca di Babbo Natale in partenza al Molo Brin il 23 dicembre si arriverà fino alla serata più attesa. A salutare l'arrivo del nuovo anno saliranno sul maxipalco del Molo Brin il Soul Man per eccellenza Zucchero e il musicista e re per Salmo Olbiesi di nascita affermato artista a livello nazionale, due anime libere della musica capaci di fondere le rispettive impronte artistiche per dare vita a qualcosa di unico. Il 2024 regalerà ancora momenti di gioia e spettacolo al centro di Olbia fino alla Befana dei Vigili del Fuoco che scenderà dalla ruota panoramica a chiudere in dolcezza gli eventi del cartellone ideato dall'amministrazione comunale. Primo traguardo di Andrea Mura nella Global Solo Challenge Giro del Mondo a vela in solitaria senza scali e senza assistenza. Lo skipper cagliaritano dopo 16 giorni di navigazione ha superato le 4 ore. L'obiettivo è stato raggiunto domenica alle 11.32 del mattino, si legge nel profilo social di Mura, dopo una notte movimentata per i continui salti di vento, continue regolazioni delle vele e correzioni del timone per mantenere la velocità. La partenza dalla Corugna, spiega Mura, è stata molto più difficile di quello che immaginavo. Sono arrivato stanco e al limite con i tempi, queste le sue testimonianze trasmesse dalla barca. È una sensazione molto strana navigare lungo un percorso senza fine e senza tornare indietro, andare per andare, sempre dritti, sempre avanti. È una cosa che non avevo mai provato prima e a cui mi sto abituando. E questa era l'ultima notizia per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.